Ok, ora vi faccio vedere un po' il posto che vivo da qualche giorno. Questa è la camera, molto grande. Quest'altro appartamento qui a turno, qui vicino, dovrà venire la stessa messicana la prossima settimana, sarà il mio vicino. C'è un po' di disordine ancora. Questa è la vista, da questa parte. I rumori che sentite sono probabilmente qualche gruppo che sta facendo le prove qui sotto. Ho studiato da Tartisti, no? Le montagne, siamo proprio davanti al fiume qui anche se non si vede l'acqua. Questo è il posto. Bambù. La patatrice. Le mancano occhia da fuori. Questa è la parte del loft dove lavora Margaret, la direttrice padrona del posto. Questa è la parte del posto. E' la parte del posto. Siamo abbastanza in centro, anche se il quartiere vero e per il. se bagna abbastanza buono troppo alcune si, stanno provando poco a dietro questa è la metro ora ce ne ho affangito giù lì c'è un orto la cucina della comunità veramente c'è una cucina posso fare spaghetti e caffè qui dove di solito lavoriamo forse già ve l'ho fatto vedere mi sa andiamo a sapere se riusciamo a beccare anche il corpo che suona la cucina la cucina la cucina Grazie a tutti.